Siamo qui oggi con Alessandro Fassina, valdo biadenese e figlio d'arte, campione del mondo di rally. Ma direi di fare un passo indietro. Parliamo un attimo di come è nata la passione di questa attività, di questo sport. La passione per il rally ovviamente è nata dalla vicinanza di mio padre che in casa si respirava veramente quest'aria, per cui c'era anche più passione al di là della mia vicinanza personale, anche proprio tutti i ragazzi erano molto più vicini di oggi a quel tipo di attività, quindi è stato un passaggio naturale da viverlo e poi cercare di praticarlo. Campione italiano nel 1990 e poi abbiamo raggiunto l'apice nel 1993 con il titolo mondiale. Ecco, che cosa c'è dietro a questo successo, il segreto del successo insomma? Ma diciamo che sicuramente occorre una caratteristica particolare, una particolare propensione ovviamente al di là dell'allenamento a poter fare questo sport come altri sport, nel senso che una grossa predisposizione di base ci deve essere. E questa predisposizione mi sono accorto di averla fin dalla prima gara, nel senso di poter partecipare alla partita che contava. Poi indubbiamente c'è un altro aspetto che oggi è venuto meno, che con l'automobile di allora potevi avere anche qualche possibilità in più di fare qualche incidente, qualche allenamento, qualcosa, invece oggi queste macchine sono un po' proibitive per costi, quindi diventa sempre più difficile riuscire ad allenarsi e anche a poter sbagliare. Ho smesso di gareggiare subito dopo aver vinto il mondiale 93. Abbiamo fatto un anno, qualche gara nel 94, molto bella, con la Ford Escort Cosworth, anche della Martini Racing, quindi una macchina molto competitiva, però mi ero già accorto che la passione quella proprio che ti faceva fare mille chilometri del giorno di ricognizione stava finendo. Iniziavi anche a percepire un po' quello che prima non vedevi, qualche burrone, qualcosa, che poi non si traduceva in un risultato di molto inferiore, però ti accorgevi che facevi un po' più fatica a fare lo stesso risultato. Quindi quando ti viene in mente che minimamente è uno sport pericoloso, senza pur subirne tutte le particolari situazioni, però appena tu percepisci questo non diventa più un divertimento. In quel momento lì ero più l'onere che il gusto e avendo anche parecchie cose da fare a casa ho deciso di smettere improvvisamente. Ma comunque le manca un po' il mondo dei motori? Sono stato per un po' di tempo, un decennio abbondante e abbastanza distaccato. Gli ultimi anni non so per quale ragione, però mi accorgo che vado a vedere qualche gara, anche qualche rivista, qualche video, qualche video su YouTube, qualcosa. Mi sto riavvicinando anche solo per i rumori, gli odori. Improvvisamente non è escluso che magari fra qualche mese, anno, possa fare qualcosa all'interno dell'ambiente. Grazie. Grazie.